Ciao sono Amalia della Garoni Immobiliare, oggi ti accompagno in visita in un appartamento in affitto. Siamo in via Filanda Vecchia nel complesso Ex Apida costruito pochi anni fa. L'appartamento è un bel bilocale al piano terra ed è dotato anche di un ampio balcone e di un garage al piano interrato. Sono sicura che questa visita virtuale ti ha incuriosito. Ci vediamo in visita!